E' un po', 89 centesimi, infatti è ancora buono Lele Buzzi, 82 addirittura recupera qualcosa, forza Lele, siamo nei 10. Sai, nei 10 per lui sarebbe il record, è guagliato perché decimo la Trano Garmi, su undicesimo Kizbuel, 71 centesimi, continuo a dividire, 71 centesimi siamo insomma lì nelle posizioni che veramente contano, forza Lele, tieni duro, benzina, tirala fuori la benzina, su, 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 bravissimo ce la fa, 2,28 e 36, tempo di Griegmaier, lui chiude con 80 centesimi, sesto tempo cade dopo il traguardo, finisce contro i materassi, ma speriamo non sia successo nulla, speriamo di no, si rimane un po' incastrato. Una volta Ghedina finì sotto questi airfens e si infilò proprio sotto anche con la testa. Sì, allora, io adesso lo guardo dalla postazione. Questa è la parte finale, eccola qua, la caduta, eccola qui proprio al traguardo, si infila come con la testa, si ripara, no. Ma gli airfens di solito funzionano bene, aveva già decelerato perché ha strisciato per 40-30 metri. Sì, allora cerchiamo di sapere cosa è successo a Lele e Buzzi, andiamo ancora...